Salve a tutti ragazzi, oggi siamo qui su Fortnite di nuovo per andare a leggere i leak che sono usciti adesso con la nuova patch Questa sarà una nuova serie che se vogliono loro mi daranno una mano E niente, andremo a leggere i leak e proveremo a portarci a casa qualche vittoria Ok, partiamo subito, ci sarà una nuova emote di Star Wars che vi apparirà qui a schermo E anche un nuovo backpack di R2D2, sempre che vi apparirà qui a schermo E è tornato Darth Vader, è tornato Darth Vader perché ci sono le sue missioni E niente, poi ovviamente pure in questa season ci sarà la skin level up Si chiama Aida E niente, poi la Epic ha confermato che la stagione si concluderà il 3 dicembre Ci saranno delle nuove skin che appariranno anche queste qui sullo schermo Ci saranno anche nuovi cosmetici delle FNCS Con il loro set ovviamente La minimap è stata aggiornata Adesso è questa qui che vi è appena apparsa a schermo Ci sarà anche una nuova variante di Herald Nuove schermate di caricamento Poi ci sarà una nuova radio che è stata trovata nei file di gioco per adesso Non è ancora stata aggiunta E sostanzialmente dovrebbe servire per chiamare gli airdrop Infatti ci sono nuovi airdrop Ti danno o delle mod per i veicoli Oppure delle cure Oppure gli airdrop normali, quelli che abbiamo sempre visto Le nuove mod Che vi appariranno qui a schermo Insieme a un nuovo spray Che potrebbe essere riferito a Mida Però non lo so Potrebbe essere Nuove coperture Queste qui sinceramente non mi piacciono molto C'è anche la nuova città dei cubi Che è stata aggiunta in creativa Inoltre La skin punk cromo Le missioni Si attiveranno Alla fine Del downtime Quindi già sono attive Ma Saranno disponibili fino al primo gennaio 2023 Quindi abbiamo un sacco di tempo per ottenerla C'è un altro nuovo backpack Che è esattamente questo qui Con nuovi picconi E Le skin di Naruto Che dovrebbero tornare Presto Non si sa quando Ma secondo la Epic Dovrebbe tornare presto Abbiamo delle texture Che fanno parte Delle motto di Herald Penso sia l'Araldo Magari Potrebbero Farci capire Che riesce a prevedere il futuro E anche a vedere il passato Da me player Arrivo Ah e comunque La La nuova fenditura Rottami La fenditura Rottami Che non gli è giunto Questa volta non Non sono oggetti Quelli di prima Diciamo quelli vecchi Ma sono oggetti di Star Wars Ragazzi aiuto Si sto arrivando C'è un tipo Player Ho perso il fungo Sto provando a ittarlo Non ho preso neanche una cosa Vai il marco Quattro Quattro Vai Arriva raga Mi stanno spawnando a me Ma cos'è Non manco posso un po' Che ti da quando sei cosa Aspettatemi raga Raga mi stanno provando a check inade Se Scappiamo Scappiamo Va che è meglio Scendi Di struttosto Da me Da me 10 Rega da me Cura di vita Uno l'ha fatto cadere Sto prendendo fuoco La cura di vita è là però Non posso prenderla Atterrato Ce la fate? Vabbè Là sopra Ha morto un altro E qua uno Qua 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 Mi riesco a sparare Qua 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 Vabbè c'è un'altra corona Trenta ha streccato Atterrato Ma siamo un fire Forza Pure shield Aspetta Passi rega occhio Arrivo Da me Dove mi hai fatto vedere un colpo Aspetta Da vai Sì è morto Queste sono tutte strutture nemiche C'è qualcun altro? Ah no Non credo Avete tornato L'hai atterrato? Sì l'ho atterrato Ne avete No Dietro dietro Adio Da me È un team da Nicolo Ah l'hai atterrato? No Posso cadere? Non mi sparano da dietro Non mi sparano da dietro Ahia Eh da me Sono un'altra Play Ma ho fatto il giro Quanti è finito Quanti sono E' uno Ma Quindi No Ma che c'è un altro C'è due Buon Natale Questo non c'è un'idea L'altro penso che lo stai sparando tu E' che me la l'ho lasciato stare Eh Oh Ho fatto il giro E' prendimi la scheda con la resta di me Non scherzo Vai 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 Non ti sparo Non ti sparo tranquillo Stanno già Stanno qui Non mi fai niente 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 In live su Twitch Ciao